Io dico subito ragazzi, preparatevi perché se no ci metterò meno mezz'ora, non voglio perché sicuramente, fossero 50 minuti come l'altra volta perché riesco ad andare nella scorciatoia, ma probabilmente minimo 20 minuti, mezz'ora ci impiego. Campionato galattico! Ok, e dopo questa presentazione incredibile della pista, che è solamente neanche il 10% della pista, quello che avete visto adesso, vi addiovo di stare zitta ragazzi, quindi se non mi sentite tanto parlare perché devo essere molto concentrata, quindi sto zitta subito, sto zitta da adesso perché altrimenti sto zitta. Tutto il tempo perché altrimenti non mi viene. E poi andiamo a prendere un po' più lento, sognate la bomba. E poi andiamo a prendere un po' più lento, sognare la bomba. Sì! Esatto. Oh! È quella dove si schiva! È quella dove si schiva! È quella dove sei schiva! Quella dove stai schivata! Ho detto dove stai schivata! E' un cica però! Ci! Poi era dove si scriva, non c'era cosa mentre il boss diceva dove si scriva anche la roba so, ci mancava veramente, ci mancava ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.